Contrariamente a quello che si pensa, si crede, si scrive, l'Africa non è un continente stagnante, statico, immobile. Molto probabilmente è la parte del mondo in questo momento che sta conoscendo un fermento straordinario sotto ogni punto di vista culturale, sociale, economico e direi anche tecnologico. Quindi si parte da questo grande fermento, da questa grande pentola africana che bolle e che nasconde dentro degli ingredienti di innovazione dal punto di vista del salto tecnologico che questo continente sta conoscendo, che farà dell'Africa il più grande laboratorio di sperimentazione tecnologica nei settori per esempio della innovazione, nel settore dell'energia, nel settore della sostenibilità in agricoltura. Insomma, un gran laboratorio che necessita che si accosti all'Africa in un modo nuovo e che possa accompagnare questo fermento con finanziamenti ma anche con iniezioni di tecnologie dall'Europa. Grazie. Grazie.